I sindaci della Toscana sono pronti, come tutti gli altri sindaci, a dare una mano a questo paese per uscire dal delirio che stiamo vivendo, per accompagnare il paese fuori dalla fase sanitaria e soprattutto per stare vicino alla ripartenza economica. Quella che si è svolta al Museo del Novecento in Piazza Santa Maria Novella è la prima assemblea regionale di Anci Toscana in cui i sindaci, alcuni in presenza, altri 230 in collegamento si sono confrontati direttamente con il presidente della regione, Eugenio Giani. Tema principe è come i territori stanno affrontando la pandemia, ma anche le difficoltà burocratiche soprattutto per approfittare dei soldi del Recovery Fund. Abbiamo gli organici in ginocchio e non è un problema solo del Comune di Firenze, ma di tutti i comuni italiani. Ora io mi chiedo, con i dipendenti in smart working, dipendenti con i problemi delle quarantene per i contagi, i concorsi che non partono e se partono devono rispettare criteri impossibili. Come facciamo ad affrontare il tema del Recovery Fund? L'Agenzia del Territorio ci dice che un'opera pubblica di circa 25 milioni di euro, quindi è una taglia media per i progetti del Recovery Fund, richiede in Italia con queste regole, con queste norme, più di 10 anni. L'Unione Europea è stata molto chiara e ha detto a tutti i paesi, cari paesi, i soldi che vi arrivano con il Recovery Fund li dovete utilizzare con tempi precisi. Entro il 2023 vanno appaltate le opere, ora siamo a marzo 2021, abbiamo meno di 24 mesi. Grazie.